Ciao, qui è Francesco Bellomo, il fondatore del programma Scommessa Intelligente, e oggi in questo video parliamo di pronostici, ok? Non di pornostici, di pronostici, pronostici vincenti, ok? Bene, la maggior parte dei pronostici sono perdenti, dunque oggi parliamo di pronostici vincenti e parliamo di come creare questi pronostici vincenti. Bene, se sei una persona in realtà che si affida al santo betting Facebook, dunque a coloro i quali su Facebook non fanno altro che creare tantissime pagine Facebook, non fanno altro che sparare pronostici ogni diciamo 10 ore o 5 ore, o delle volte seguono anche strategie di marketing e magari li sparano anche ogni 2-3 ore, ogni santo giorno, bene, difficilmente farai parte di quelli che possono essere considerati la categoria dei pronostici vincenti, perché? Un pronostico per essere vincente deve essere in realtà creato su una formula, no? Quella che io definisco la formula scommessa intelligente. Ma perché la formula in realtà scommessa intelligente è davvero straordinaria, no? Ed è la formula che in realtà ho tirato fuori dopo anni e anni di esperienza viva nel settore e soprattutto è la formula che in realtà ho visto applicare direttamente o indirettamente a tutti coloro i quali dalle scommesse, dallo sports trading in realtà hanno creato imperi, ok? Dunque alla fine uno degli step più importanti qual è? Innanzitutto è quello che per avere la possibilità di creare dei sistemi e dei pronostici vincenti, dunque delle strategie vincenti, devi innanzitutto avere uno storico. Uno storico deve essere basato su dei modelli statistici, dunque modelli statistici che possono essere diversi, ci sono diversi modelli statistici che si possono utilizzare per creare un valore e creando uno storico dallo stesso valore si possono poi creare strategie ovviamente vincenti, affidabili e ricorrenti in realtà, no? A livello di affidabilità e di guadagno nel tempo. Dunque alla fine il consiglio che voglio darti oggi è quello di non seguire persone che in realtà non ti mostrano degli storici e che magari in realtà ti invitano magari a fare bettate in multipla, in tripla, in doppia, con sistemi ad errore, non seguire questa tipologia di gente, ok? Dunque il mio consiglio, che comunque sono miei consigli, sono delle mie verità in base a quella che è la mia umile esperienza, no? Il mio consiglio è quello di crearti i tuoi pronostici e crearti i tuoi pronostici significa rispecchiare quella che è una formula scommessa intelligente, dunque ti crei in realtà uno storico, all'interno del programma scommessa intelligente lo mettiamo a disposizione dei nostri allievi, ma puoi crearti e puoi tirarti fuori il database, ci sono diversi siti in realtà che ti offrono anche la possibilità di scaricare il database footballdata.co.it, ti dà la possibilità di scaricare alcune database anche di anni a ritroso, consistenti. Ovviamente io personalmente cerco di affidarmi alla mia, alla mia mano, no? Dunque personalmente cerco di creare un qualcosa che per me sia affidabile. In realtà altri database sono affidabili o meno? Non posso saperlo, perché non so in realtà questi database come sono stati costruiti, se sono stati costruiti prendendo dei dati allo stesso modo, nella stessa maniera, questo non posso saperlo. Dunque in realtà l'affidabilità di altri database non posso dartela. Però in realtà ti posso suggerire questo, che ci sono dei database in realtà a disposizione, footballdata.co.key te li mette a disposizione in modo completamente gratuito, li puoi scaricare, puoi iniziare ad analizzarli, dunque in realtà analizzi un po' questi database, ci sono tante voci e poi devi crearti in realtà anche dei tuoi modelli statistici che ti permettano in realtà poi di creare dei valori sui quali determinare e creare in realtà le tue strategie, i tuoi pronostici vincenti. Dunque se oggi ho voluto trasmetterti un qualcosa in questo brevissimo video, in realtà è di non illuderti seguendo pronostici a destra e a sinistra. Hai la possibilità oggi di crearti in realtà i tuoi pronostici e magari poi una volta che li crei e sai farlo in un modo importante puoi anche venderli agli altri, no? Perché se crei delle strategie importanti che ti danno la possibilità di ottenere profitto, perché no? Aiuti anche gli altri a fare profitto, monetizzi anche questa tua capacità e questa tua strategia. Dunque meglio di così, penso che si muore in realtà, no? Dunque alla fine fai questo, evita pronostici perdenti, evita questi pronostici e inizia in realtà a creare dei pronostici vincenti. Se vuoi sapere di più come fare, segui altri miei video, iscriviti al mio canale, condividi questo video, commentolo, fammi le tue domande, magari poi creerò dei video anche in base alle tue domande rispondendoti in realtà nei video. E un'altra cosa molto importante che voglio dirti in realtà, se non l'hai ancora fatto, vai su scommesseintelligente.com, goditi la videoserie di coaching gratuita messa a tua completa disposizione, perché ti darà la possibilità in realtà di alzare il tuo livello di consapevolezza. Qualsiasi cosa che faccio, la faccio solo per educarti, istruirti e formarti a quella che è la verità e la verità rende liberi. Dunque niente più pronostici, dunque pronostici perdenti, ma iniziamo a creare pronostici intelligenti, pronostici vincenti. Qui è Francesco Bellomo, è presto, ciao!